Sono Ivana Brignolo Miroglio, rappresento la Tenuta Carretta e sono una donna del vino del Piemonte. Tenuta Carretta è un'azienda di Piovesi d'Alba nel Roero, quindi diciamo la parte destra del fiume Tanaro. È un'azienda storica, le sue radici risalgono alla metà del 1300 dalla prima proprietaria Careta, da cui viene anche il nome. Ma diciamo che la partenza vera dell'azienda è del 1467, quando in effetti è scritta la mezzadria tra il proprietario di allora, quindi il Marchese Damiano, e i loro fattori. E questo è un fatto molto importante, perché in effetti su questo contratto sono già indicati dei vigneti, quindi già nel 1476, dei vigneti che ancora oggi sono il cuore della nostra azienda. Sono vigneti di Nebbiolo e sono vigneti di Roero Arneis, quindi bianco e rosso. La cosa simpatica e forse anche importante della nostra azienda è che in tutti questi anni, quindi questi 550 anni, l'azienda ha avuto solo quattro proprietari. Quindi dai Marchesi Damiano nel 1811 è passata ai Conti Roero e negli anni 40, diciamo, alla famiglia Veglio di Torino. E poi nel 1984-85 alla mia famiglia. Perché è importante? È importante perché in realtà nessuno di questi proprietari ha mai smembrato l'azienda. Anzi, nel tempo, l'azienda è stata sempre ampliata. Oggi è un'azienda di 80 ettari, di cui più della metà, quindi 41-42 ettari, sono intorno alla cantina nel Roero. E gli altri restanti sono invece nelle zone in Langan, in bassa e alta Langa, nelle zone del Barolo del Barbaresco e in alta Langa, nella zona del Pinot e dello Chardonnay, appunto, per fare questo prodotto nuovo per noi. Quindi è nuovo nel senso che abbiamo iniziato a produrre l'alta Langa nel 2014, quindi abbastanza nuovo ed è l'ultimo nato. Nei 40 ettari che si trovano in questo anfiteatro intorno alla cantina, naturalmente coltiviamo i prodotti tipici del Roero. Quindi il Nebbiolo e il Roero Arneis, la favorita, una piccola quantità di Barbera. Noi produciamo quasi esclusivamente dai nostri vitigni e facciamo una coltivazione integrata, nel senso che ci preoccupiamo di quello che è l'aspetto ambientale, quindi cercando di usare pochi diserbanti e poi utilizziamo anche le trappole e i ferramoni per fare sì che l'ambiente abbia questo aspetto più naturale. Il prodotto che voglio presentarvi oggi, che è un Roero Arneis, che è il Cayega, che è il nostro prodotto immagine, viene proprio da queste vigne che sono tra l'altro state considerate nell'ambito dell'UNESCO tra i paesaggi vitivinicoli riconosciuti. Il Cayega è il presente e il futuro della tenuta carretta, è un vino equilibrato, ha la sua complessità, ha una struttura e ha grande piacevolezza. Viene vinificata con una pressa soffice e macerata a freddo a temperatura bassa. L'affinamento prosegue per circa sei mesi nell'acciaio, sulla feccia fine e dopodiché continua il suo affinamento in bottiglia. È un vino che va servito freddo e che è ottimo come abbinamento per gli aperitivi, per tutti i piatti a base di pesce, anche su dei primi leggeri. La cosa migliore che potete fare è venire in azienda ad assaggiarlo. Vi accoglieremo con grande piacere.